Da oggi l'esame del decreto sostegni bis da parte del Parlamento entra nel vivo. Sui due articoli che riguardano più direttamente la scuola, e cioè il 58 e il 59, è in atto da diversi giorni un ampio dibattito fra le forze politiche e i sindacati, nel tentativo di trovare soluzioni condivise. Alcune indicazioni sono emerse già nella giornata del 9 giugno, nel corso di un incontro che i partiti di maggioranza hanno avuto presso la sede del Ministero. Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, il Ministero avrebbe ribadito il proprio impegno e la propria certezza anche di riuscire a portare a termine le operazioni di assunzione in ruolo entro il 31 luglio. Nel merito del decreto dovrebbe esserci poi l'accordo generale per eliminare la norma secondo la quale chi non supera le prove di un concorso non può presentarsi a quello successivo. Per quanto attiene le procedure previste per le assunzioni da GPS, sembra emergere un accordo, ma è ancora tutto da verificare. Cioè le assunzioni in anno di formazione e di prova già previste per i docenti di prima fascia con tre anni di servizio potrebbero riguardare anche i docenti senza i tre anni ma con il titolo di specializzazione. Nella stessa giornata di mercoledì 9 i sindacati hanno anche manifestato a Roma e in molte altre città per richiamare l'attenzione della politica sui numerosi problemi aperti. Sentiamo le loro dichiarazioni. Maddalena Gissi, segretaria CISL Scuola, dichiara il DL sostegni va cambiato radicalmente, deve avere un seguito, ci vuole una riforma strutturale. E ai numeri forniti dal Ministero sulle prossime assunzioni ribatte con sarcasmo. Se qualcuno ha bisogno di un pallottoliere, glielo forniamo. Perché forse non si ricordano più come è fatta la scuola. Quanto ha proposte, dichiara perché non ci devono essere i percorsi abilitanti per chi lavora nella scuola da anni, perché non dobbiamo giocarci la partita della formazione. Ci affidiamo alle crocette. Un professore di matematica può essere bravissimo con le crocette ma se poi è del tutto incapace di insegnare, che facciamo? Ce lo teniamo? Manuela Pascarella, responsabile precari di FLC CGL, è durissima sui provvedimenti del DL sostegni e afferma I criteri per le stabilizzazioni sono stati costruiti scientemente a tavolino per ridurre il numero delle persone da assumere in pianta stabile ma le chicche del provvedimento sono altre e ironizza parlando di odore di incostituzionalità in riferimento alla norma che vorrebbe impedire a chi fallisca il concorso ordinario di presentarsi a quello successivo. E sempre sui quiz, commenta altro che merito, siamo proprio alla lotteria. Rino Di Meglio, infine coordinatore di Gilda Insegnanti, sposta l'attenzione sulla questione remunerativa dichiarando invece dell'aria fritta nel patto per la scuola abbiamo bisogno di interventi concreti che restituiscano dignità agli insegnanti a partire da uno stipendio decoroso e ricorda sommessamente che mancano solo 5 mesi all'inizio del nuovo triennio contrattuale e che siamo ancora all'anno zero per quello ormai già scaduto. Tornando al testo del decreto e alle possibili modifiche di particolare interesse appare la soluzione che si sta prospettando sulla questione più generale del reclutamento. Nella legge di conversione, infatti, potrebbe essere inserita una disposizione per affidare al governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che consentano di risolvere completamente le norme in questione norme che peraltro risalgono al 2017 che quindi non sono neppure particolarmente datate. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi informati perché proprio nei prossimi giorni prenderà avvio il dibattito presso la Commissione Bilancio della Camera quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci, mandateci le vostre lettere, le vostre osservazioni, i vostri commenti noi come di consueto ne daremo conto. Grazie a tutti.